bentornati ragazzi sul canale di giochi next gen io come sempre sono angelo nero 83 e oggi siamo tornati su green fandango il secondo episodio proseguiamo l'avventura con il nostro simpaticissimo amico allora ragazzi io ho provato prima di iniziare a registrare ad andare da questa zona e non ho trovato nulla quindi a questo punto direi che dobbiamo tornare indietro perché da lì praticamente vi spiego dalla corda sale in un ufficio però bisogna fare qualcosa prima dell'ufficio quindi ho ipotizzato che magari devo tornare qua dietro cioè nell'ufficio dove stavo prima perché è strano in quanto non non fa assolutissimamente nulla io ora non so che quella porta non si apre da qui niente quindi proviamo a risalire l'ascensore io qui avevo visto ragazzi un altro un altro ascensore che ha detto vabbè non prendiamo questo prendiamo quest'altro quindi non vorrei che bisogna andare in questo ascensore quindi proviamo una macchina qua la macchina nera ci ha superato andando da là proviamo ad andare da qua vediamo un po cosa c'è ah li vedo un ufficio ragazzi guardate non so se l'avete visto è un ufficio questo qui sì a vedete c'è un ufficio che cos'è non so se si può aprire vediamo ha bussato quindi si può che è sto coso qua oddio gli agenti alle vendite di solito non vengono qui in questa parte del garage allora tu sei un autista mi chiamo calavera manny calavera bel capanno stami bene ciccio chiediamoli se è un autista tu sei un autista io no 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 non le guido le aggiusto e basta quindi è un meccanico mi chiamo calavera manny calavera io sono glottis non ho molte visite e ho un messaggio per un certo calavera il tuo autista ha detto che mister harley ha detto che poteva avere il resto della giornata libera domino ha mandato a casa il mio autista sì non è gentile cioè praticamente siamo senza autista che abbia bisogno di un nuovo autista io 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 credo che tu abbia ragione sì è vero per dire questa cosa ci ha messo tre ore vediamo se vuole sostituire lui l'autista ti va di sostituire il mio autista io no mi dispiace non posso le regole insistiamo andiamo glottis ho bisogno di te no non posso sono sono troppo grosso diciamoli che non è grosso hai solo un problema di auto accettazione ripeti con me non sono grasso sono magro le donne mi trovano attraente non ho mai detto di essere troppo grosso per le donne solo per le auto alle donne piaccio piaccio le donne ragazzi guardate quanto è bello e sexy proviamo a corromperlo a cab no non voglio finire di nuovo nei guai mi hanno detto che la prossima volta sono fuori vediamo almeno se conosce qualcuno che può guidare uno che ragazzi devo procurarci un nuovo autista vai benissimo no me lo hanno detto tante volte sono troppo grosso per guidare ok ci vediamo più tardi amico sì bene che ragazzi praticamente siamo senza autista quindi quello che ho sentito all'inizio del gioco sia che lui deve prendere la macchina è proprio così ci serve la macchina quindi era giusto guardate qua quante ce ne sono allora da lì è uscito il tizio con la macchina nera quindi da quale potremmo uscire pure noi avendo un autista ma non ce l'abbiamo quindi non so come fare a insomma a procurarmi un autista torniamo su perché qua penso che non ci sia più nulla da fare almeno penso allora vediamo qui ragazzi io sono andato prima qui vedete qui c'è una corda guardate vedete spingendo x si arrampica ecco qui e saliamo qua vedete c'è la finestra con il vetro rotto si può anche salire più su però ora lui non ce la fa allora saliamo qui nel frattempo sono proprio visto una cosa strana e qui entriamo in un ufficio io non ho trovato nulla ho solo visto questo computer e quindi vediamo un po sembra che donna abbia impostato il computer per rispondere automaticamente all'interfondo non adesso io aspetta se non è piano di una di non importante l'avevo detto favorevo bisogno di stare solo per un po dire se ne sono ancora arrivati solo dal telefono preoccupato della finestra cercando di perdere il lavoro cambierò il messaggio moledizione ok firmatelo da sola sono occupato ragazzi penso che possa cambiare la risposta possa essere una delle possibili soluzioni ma non so quale tutti sapranno che stavo ficcando il naso qui dentro non so quale potrebbe essere la giusta soluzione tornerò dopo l'avvelenamento a perquisire la stanza cioè ragazzi c'è da cambiare quel messaggio che ha a che fare con la segretaria con eva andiamo dicendo questa cosa che succede stai cercando di allontanarmi dalla mia scrivania così potrai di nuovo unire insieme tutte le mie graffette ragazzi non so che fare sinceramente bene vado a battere un po la strada che ragazzi ho sinceramente non riesco a capire come fare la soluzione sicuramente qui quindi provo a tornare a parlare con il meccanico qualcosa enorme la molto simpatico anche se non ho ottenuto risposte vediamo ora se se non dato nell'ufficio magari cambia qualcosa perché se no non so proprio come poter fare vediamo perché qui stanno le macchine quindi qui che dobbiamo puntare per cercare di avere la macchina per potercene andare e poter proseguire il gioco riproviamo qui vediamo ora riuscirà il piccolo meccanico ok proviamo a parlare di nuovo glottis ho bisogno di te ti ho detto sono troppo grosso non sei troppo grosso sono le auto che sono troppo piccole è vero quelle stramaledette utilitarie mi è venuta un'idea potrei modificare un po la tua auto solo un tocco leggero leggero di fiamma ossidrica capisci ma non posso modificare le auto senza un ordine di lavoro scritto dall'alto potrei perdere il posto un ordine di lavoro sì 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 non posso accendere niente di più grosso di una sigaretta senza uno di quelli firmato dal boss in persona e questa è la mia specialità ok far firmare la gente torno tra un attimo sì troppo piccole io non sono troppo grosso tutto qui è troppo piccolo ok ragazzi ecco qui l'ultima risposta che non ho voluto dare era quella determinante perché ora abbiamo il foglio di lavoro che sicuramente dobbiamo consegnare alla segretaria ok ecco qua ho davvero bisogno del capo per firmare questo ordine del giorno mi farò uno squillo mister copal mister calavera è qui fuori dice che ha qualcosa che richiede la sua firma da diavolo eva firmalo tu d'accordo sono impegnato ah ecco ragazzi avendo modificato prima quella frase casuale vedete me lo sta firmando probabilmente il cruciverba di oggi è particolarmente impegnativo quindi praticamente a pura fortuna ho impostato la frase giusta questo potere tutti abbiamo i nostri segreti che succede una scena animata o eccoci qui di nuovo e si tira morte guardate che fighi che figo che sta facendo ecco andiamo col meccanico girando ragazzi che sicuramente ci dà più velocità la macchina essendo molto piccolo ragazzi non so dove siamo qual è la macchina nera che ci ha sorpassato prima i vivi mi danno sempre i brividi siamo nel mondo dei vivi qui c'è uno impacchettato quindi ecco qui è uscito la falce spingiamo x dovrebbe e infatti ecco qua l'ha aperto è un cadavere ragazzi c'è uno scheletro che l'ha intrappolato ok siamo tornati all'interno del nostro garage ormai ragazzi il meccanico l'abbiamo perso con questa mister martinez potrete riposarvi tra la morbida schiuma da imballaggio che si creerà dal mix di questi due componenti chimici ecco bellissimo ragazzi gli stiamo preparando la bara ma non avete requisiti per nient'altro però posso offrirvi questa tazza a omaggio no aspetta non puoi trovarmi qualcosa dove possa muovere le gambe mi piacerebbe davvero bruno ma il mio capo è un osso duro devo essere un osso duro visto che ho a che fare con degli idioti per di tempo come questo qui manny non riusciresti a vendere gelati nel deserto ho appena venduto qui parlo di vendite grosse calavera come quelle che fa domino come posso concludere grosse vendite con questa schifezza di clienti che mi mandi adesso dai la colpa ai clienti ne ho abbastanza di temelli se non concludi qualcosa di buono prima della fine del trimestre tu sei fuori licenziato non potrai più pagare il tuo debito resterai solo col tuo bel vestito e il tuo sorriso e un sacco di tempo da ammazzare chi hai chiamato schifezza adesso ti fai ricorda il capo ricorda journal jameson quello di spider man stessa simpatia sono stanco di aspettare un'occasione è come cercare di volare legati a un mattone è ora di prendere l'iniziativa dobbiamo prendere l'iniziativa ragazzi ehi hai perso un grandioso avvelenamento si e tu hai perso un grandioso cliente domino è tornato con una suora io non metto magro con un brutto carattere e nessuna commissione bene almeno hai da fare ok ragazzi il segretario non ci aiuta e ok ragazzi allora per questo secondo episodio io lo termino qui a breve vi porto il terzo episodio nel quale proseguiremo l'avventura spero che il video vi stia piacendo cioè che il gioco vi stia piacendo è veramente molto molto bello e come vi ho già detto se avete qualche suggerimento da darvi fatelo pure ovviamente se vi piace questa serie lasciate un like commentate condividete iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto mi raccomando ragazzi ci vediamo al prossimo video qui da AngeloNero83 tutto bella iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale Grazie a tutti